Con noi c'è Claudio D'Angelo che saluto, buongiorno Claudio, partner di UI. Adesso abbiamo un approfondimento legato ai temi della mobilità, aiutaci a introdurre l'argomento e poi con te e con i nostri ospiti lo sviluppiamo. Perfetto, grazie, buon pomeriggio a tutti. Come già anticipato oggi, le risorse destinate nel PNR rappresentano un'occasione unica per il rilancio del settore e per il rinnovo e lo sviluppo del parco infrastrutturale. E soprattutto nel settore della mobilità rappresentano un'occasione, come già anticipato oggi dal Ministro, per ridurre il divario tra il nord-centro e il mezzogiorno del Paese. Ovviamente questo consentirebbe di aumentare quella che è la competitività del sistema Paese nel suo complesso. L'ambizione è quella di programmare, progettare, realizzare e gestire le infrastrutture al fine di abilitare una mobilità che sia più sicura, più integrata e più sostenibile, facendo leva ovviamente sulle migliori tecnologie ad oggi disponibili. Ora, dall'indagine che noi abbiamo effettuato con SVG emerge in maniera abbastanza chiara come l'ambizione sia ormai condivisa. Quindi probabilmente la sfida non è tanto il cosa, ma il come andare a realizzare le infrastrutture nei tempi predefiniti e soprattutto considerando il costrente dei cinque anni di cui abbiamo parlato finora. E un tema che volevo toccare sicuramente è una complessità che si aggiunge a questo, il fatto che le infrastrutture saranno sempre più connesse. Questo implicherà una moltiplicità di attori che dovranno intervenire nella filiera proprio per la convergenza che c'è ormai tra il settore dell'energia, il settore dei trasporti e il settore delle tecnologie. Quindi avremo più attori che interverranno sulle infrastrutture da realizzare e questo dovrà avvenire necessariamente in maniera coordinata. Finora questi attori, magari appartenendo a settori diversi, hanno interagito, ma hanno interagito solo per piccole porzioni dell'intero parco infrastrutturale. Quindi questa può essere sicuramente una sfida importante. E sicuramente cambierà quello che è il ruolo dei gestori dell'infrastruttura. Cioè il ruolo dei gestori dell'infrastruttura sarà richiesta una visione più integrata dei servizi anche da dare al cittadino, la possibilità di realizzare delle infrastrutture intelligenti che consentano di comunicare con i mezzi di trasporto, ma anche con i cittadini e non ultimo diciamo ovviamente di realizzare delle infrastrutture che siano sostenibili. E poi c'è un tema tecnologie, cosa non da poco però. Assolutamente sì, sicuramente il tema delle tecnologie è un tema che va visto di pari passo con quello della sostenibilità. Per dare un paio di numeri che sono emersi un po' da quella che è stata la nostra analisi condotta con SVG, non è sorprendente vedere come più del 50% dei player dell'infrastruttura hanno messo la sostenibilità al primo posto o al secondo posto di quelle che sono le finalità nella realizzazione delle infrastrutture. La sostenibilità però non potrà andare avanti senza prescindere da quelle che sono invece le soluzioni tecnologiche che oggi consentono di acquisire ad esempio dei dati sulle infrastrutture e di realizzare i cosiddetti gemelli digitali delle infrastrutture. Qui alcuni dati importanti che sono emersi dall'analisi è che le soluzioni tecnologiche consentono sicuramente di intervenire anche su un aspetto non solo di quello di abilitare la sostenibilità ma anche quello di realizzare delle infrastrutture che siano più sicure. E più del 50% degli intervistati ci dice che le soluzioni IoT per il monitoraggio in realtà delle infrastrutture piuttosto che i modelli predittivi oggi sono delle tecnologie che ritengono sufficientemente mature e dove probabilmente c'è un gap di realizzazione diciamo omogenea su tutto il territorio nazionale. Forse una parola in più possiamo ancora spendere sul lato sostenibilità che è un po' una parola diventata un po' omnibus ma siccome però il tema è centrale proviamo un po' a mettergli qualche paletto? Sì, allora condivido diciamo che è un po' un tema al centro dell'agenda ormai di tutti gli operatori e non solo del settore delle infrastrutture qui magari due elementi concreti sicuramente sostenibilità nel settore delle infrastrutture per la mobilità può significare applicare dei protocolli riconosciuti anche mediante certificazione di terze parti che consentano di premiare dei comportamenti green di quelli che sono i gestori e non solo delle infrastrutture ma anche tutta la filiera dei fornitori e un altro tema importante può essere quello di andare a monitorare e ridurre il carbon footprint delle infrastrutture anche realizzando diciamo o facendo adozioni di sistemi di alimentazione innovativi come quelli elettrici o idrogeno. Molto bene, io direi che abbiamo un po' messo in fila i temi che la discussione sulla mobilità che adesso faremo dovrà affrontare abbiamo la fortuna di poterlo fare con molti autorevolissimi protagonisti del settore operatori di ogni genere e quindi la discussione dei prossimi minuti sarà molto interessante io intanto ringrazio Claudio D'Angelo e ci ritroviamo tra pochi secondi con l'amministratore delegato di Aspi a tra poco